Cari amici, torniamo a raccontarvi la Bobo Summer Cup. La prima edizione della Bobo Summer Cup arrivata in questo preciso momento alla giornata numero 2. E qualcuno si starà chiedendo, ma perché Enzo e Costanza sono soli nell'infinito? Perché stiamo aspettando che tra poco inizie il vero spettacolo. Tra l'altro ti confesso che io giocherò pure. Infatti, questa è la quiete prima della tempesta. Esatto, quindi adesso mi alleno da sola perché se non arriva qualche pallonata magari a qualcuno e si fa male. Dopo aver sorriso sudato, faticato e un sacco di sorrisi, adesso c'è stata la parte del pranzo. Poi magari inquadriamo anche la zona relax. Perché c'è gente tutta spiaggiata? Dove c'è qualcuno che dorme, ragazzi. Allora, la Bobo Summer Cup è nella fase della pennichella. Della pennichella e mi sembra giustissimo. Noi stiamo aspettando la ripartenza, invece tu Costanza, signorina Costanza, cosa si aspetta da quest'estate? Da quest'estate? No, non lo so che cosa mi aspetto da quest'estate. Comunque la mia prima estate da single, ne vogliamo parlare? Ragazzi, si apre un mondo che vi lascio solo immaginare, grazie Costanza. Ma grazie a te, ci vediamo, vi aspettiamo.